Questa è la verità. Quello che mi ha colpito in questa vicenda, come potete immaginare, mi è capitato di ascoltare la dichiarazione che gli hanno scritto fatta da Luigino Di Maio. Io non avevo più avuto tracce di Luigino Di Maio, più avevo tracce, insomma cercavo di non perdere più tempo. Ieri è entrato di prepotenza nella mia casa, disturbandomi la cena, ho sentito uno spezzone del suo intervento. Luigino Di Maio parlava come se fosse un premio Nobel, dall'alto dei 13 mila euro al mese netti che prende. Per questo le ho detto che io sto invecchiando ormai, queste cose non le reggo più. Ma in quale paese decente del mondo, uno che prende 13 mila euro netti al mese, senza avere né arte né parte, si può permettere di parlare in quel modo. La domanda che io farei a Luigino Di Maio, se tu domani mattina non fai il parlamentare a 13 mila euro al mese, come campi? Come campi? Non hai mai lavorato, non hai un mestiere, non hai una propria, come campi? Fammi capire. Questo soggetto si candida a fare il Presidente del Consiglio. e ha avuto l'ardire di dichiarare ieri, quando è stato il dibattito parlamentare, con una... Vi abbiamo sconfitti, si rivolgeva a quelli del PD, che per la verità in termini di comunicazione sono sempre all'anno zero. Vi abbiamo dato scacco matto, Luigino Di Maio. Ora, noi dobbiamo ricordare a Luigino Di Maio, che lui dopo aver dato scacco matto alla geografia, alla storia, alla grammatica, alla sintassi, con il dibattito di ieri, ha dato scacco matto alla decenza, perché uno che prende 13 mila euro netti al mese, per quello che mi riguarda, deve stare zitto. La riprova è che nella Regione Campania noi abbiamo approvato, a gennaio di quest'anno, una legge bellissima, che prevede, neanche noi abbiamo i vitali, c'è la pensione integrativa, c'è un solo articolo che dice così. tutti i consiglieri regionali che vogliono rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al vitalizio devono andare dal Presidente del Consiglio regionale e comunicarlo per iscritto. Punto. Ho offerto un'occasione ai grillini per coprirsi di gloria. Lei pensa che sia andato uno solo dei consiglieri regionali grillini a dire io rinuncio a un euro. Ma quando male? Ma quando male? Cioè questi sono dei cialtroni nati, oltre che squadristi. Se vedete le immagini della riunione del Consiglio regionale scorso, quello si chiama squadrismo. Gente che impediva ai consiglieri colleghi di parlare o in continuazione. Sono andati verso la Presidenza. Io ero in Prefettura a Napoli a firmare l'accordo per la terra e i fuochi. Hanno gettato terra, non so che diavolo, hanno buttato sul tavolo della Presidenza. Ma siamo a livelli di indecenza. Di indecenza. Allora, fermiamoci qui. Io queste cose le dico parlando a quegli elettori delle Cinque Stelle che immaginano di fare scelte per avere in Italia più semplicità, più correttezza, più onestà. E li invito a riflettere. Perché chi vuole raggiungere questi obiettivi e pensa di utilizzare quello strumento politico, si sbaglia completamente. Qui siamo alla cialtroneria. Alla cialtroneria. Solo che rischiamo di fare male all'Italia. Comunque, noi parliamo dei vitalizi, le palle, le pippe. E la Francia. Si difende la sua industria navale, la sua industria energetica, la sua industria dei trasporti, perché al centro dell'attenzione, lì, ci sono i problemi veri. Non le palle che servono a fare propaganda per raccattare un po' di voti. Questa.